buonasera e benvenuti all'ultimo concerto di arte scienza 2020 e per me un onore un piacere veramente ospitare con il centro ricerche musicali alvin curran perché rappresenta un riferimento mi permetto di dire storico per la musica elettronica non solamente italiana ma mondiale ed è con lui che sono iniziate delle esperienze importantissime a roma proprio per la musica elettronica attraverso il gruppo di elettronica viva ma anche le esperienze proprio come compositore e performer all'interno della musica elettronica che lo ha visto sperimentare sintetizzatori ed ogni forma veramente anche di rapporto con l'ascolto di una nuova musica di una nuova organizzazione dei suoni in particolare il concerto di questa sera che è una prima assoluta raccoglie un po tutta la storia di alvin carran perché durante il primo lockdown si trovava berkeley mi sembra di ricordare alvin ha raccolto una veramente una quantità impressionante di registrazioni di suoni che ha raccolto veramente in circostanze particolarissime e soprattutto in giro per il mondo la sua sensibilità per la prosodia del suono per la capacità emozionale del suono gli da questa sera in particolare la possibilità di una performance che vedrà i suoni forse di di un'attività durata oltre 50 anni ed è veramente per noi un momento importante significativo oltre che a essere un saluto augurale veramente per la musica elettronica italiana quindi grazie alvin per essere con noi e grazie al pubblico che ti seguirà veramente grazie tanto grazie veramente i'm just going to add for for the uh 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 our international public a couple of words uh uh in a language that uh i'm still trying to master uh uh my native language and uh i'd like to uh say just uh uh briefly that uh This work tonight is a fragment, is a small taste, really a kind of a, yeah, just an antipasto to the real work, which doesn't have any duration yet, but it will be certainly a long work, a long work of several hours, for sure. As I said in, as Michelangelo said also, this is an autobiographical work, as all of my music is autobiographical, but especially in the sense that it really covers the places I've been, the people I've met, the sounds I've heard, the world that has entered into my music and into my working practice as a constant source of inspiration. And other than that, this work is about pure sound, it's not about storytelling, even though there are stories buried, buried in it. And I will be also using a few acoustic instruments as well, namely pianoforte, this shell, which I'll probably start the concert with very quietly. Thank you. Thank you. no 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.